Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Isabelle che dedica questa mini recensione con amore a Mia. Il film di cui vuole che parli è Vincent deve morire, di produzione francese, un thriller semi horror fantascientifico in un certo senso di Stéphane Castagne che parte con un certo tipo di humor nerissimo, interpretato da Karim Leclou che appunto fa il nostro Vincent, che lavora in un famoso studio grafico di Lione, una persona normale considerata come tanti altri. Un giorno però uno stagista lo assale, lo vuole far fuori, lo vuole ammazzare e quindi il nostro si sente messo di mezzo quando non ha fatto un cazzo, però la situazione sembrerebbe non andare oltre, solo che cosa succede in realtà? Un'altra volta che ritorna a lavorare un altro lo vuole far fuori un'altra volta, un suo collega che pur cura e conosce da 10 anni e quindi invece di essere aiutato viene addirittura allontanato dal lavoro e poi il nostro si rende conto che in realtà se lui incrocia lo sguardo con le persone che ha accanto, chiunque lo guarda negli occhi ha proprio voglia poi di farlo fuori, di ucciderlo. In tutto questo incontra una cameriera di un fast food che non vuol credere a tutto questo e che poi invece dovrà crederci perché vedrà una scena incredibile e i nostri dovranno scappare da un mondo che sembra diventare sempre più violento e sembra che questa cosa appunto possa passare ma possa anche diventare ancora più pericolosa. Allora è un film non perfetto ma sicuramente che ha delle parti fantastiche, l'inizio secondo me è geniale, una partenza da commedia francese che poi piano piano diventa sempre più nera e sempre più surreale per quello che poi viene messo addosso a questo povero Cristo che viene considerato una bestia, lui ambiguo, particolare, insomma anche per fancazzare anche i peggio bambini, è proprio incredibile in tutto questo. Il rapporto con la donna tosta appunto del fast food è veramente notevole e poi il ribartamento dei ruoli sul finale, per un finale veramente tristissimo e horror che mi è piaciuto molto, per un film ritmatissimo, tutta la scena in cui vuol convincere lei che il nostro è davvero perseguitato sembra lì per lì essere quasi comica, con lui che esce di macchina, guarda quello accanto che non solo un caga nemmeno e invece poi entra dentro il supermercato e poi esce praticamente con centinaia di persone che lo vogliono far fuori e di lì poi c'è un certo tipo di fuga, un certo tipo di voglia di capire che cosa sta succedendo nel mondo intero e ripeto il regista questo lo riesce a tirare fuori con una bella forza, una bella forza a livello proprio grafico, cioè dei movimenti di macchina notevoli, una bellissima fotografia, la musica riesce a stare in piedi per un film che sicuramente non è un capolavoro ma è un bel film, un film fatto bene, non è nemmeno un grande film ma sono quei film che si guardano molto volentieri, che hanno una struttura diciamo interessante per costruzione, che fanno vedere diciamo questo tipo di post di apocalisse che arriva a distanza in realtà attraverso solo lo sguardo forse di due o poco più personaggi appunto molto brava anche di Mala Ponza appunto nel ruolo di Margot, la cameriera tostissima per un film assurdo che appunto c'ha questo cane e il cane riesce a riconoscere appunto chi è che potrebbe in quel momento essere pericoloso in quelle scene veramente di fuori di testa per un film ripeto che passa da uno stile all'altro senza colpo ferire, comunque sono ben fatte le scenerazioni, la tensione cresce e il film secondo me è tutto sommato molto gradevole, io l'ho visto molto volentieri e sono pronto a rivederlo anche proprio perché è un film che comunque ha dalla sua un certo tipo di chiave di lettura sulla violenza, sull'idea della stessa attraverso una società che sembra quasi averla annientata, averla semplicemente rinchiusa dentro il computer che esplode semplicemente attraverso uno sguardo, uno sguardo che poi però può cambiare e diventare quello della vittima, quindi un film per me è assolutamente particolare e quindi quando è una cosa particolare un'occhiata se la merita di sicuro, ripeto non è roba probabilmente per tutti però è un film che riesce ad avere la sua forza narrativa, riesce ad avere la sua forza negli attori ed ha una buona regia, ripeto il quattro di fatto, dà un'ottima fotografia e dà un montaggio che rende il tutto ancora più scorrevole, quindi un bel film, uno di quei film che si guardano molto volentieri e del quale si è sentito parlare troppo poco e che in realtà in Francia ha avuto un grandissimo successo e speriamo che insomma ce lo portino bene bene anche qui perché è un film assolutamente di quelli da non perdere se amate un certo tipo di genere diciamo così apocalittico che è virato verso l'umano più che sul violento splatter ma che comunque ha delle scene di violenza anche quelle enormi ma che in realtà parla appunto della psicologia di come anche i media, di come anche tutte le persone del mondo reagiscono in realtà a una violenza che sembra in realtà scatenata esclusivamente da uno sguardo, quindi lo sguardo è quello che fa tutto e a livello quasi cinematografico il film è ancora più interessante se vogliamo analizzarlo in quel modo, quindi che dirvi di più, Vincent deve morire, il film è qua sotto, donate sul Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante, grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per pensare che cazzo faccio a Giro per l'Italia e questo Vincent deve morire ripeto è un bel thriller d'azione che ha del dentro la commedia che appunto mescola l'azione, mescola il thriller, mescola la commedia e tutto attraverso una surrealità che diventa un film apocalittico in un modo assolutamente originale e già per questo per me vale il prezzo del biglietto.